Ciao a tutti! Perché è importante studiare la storia? Un popolo che non conosce il suo passato spesso barcolla nel presente e non ha una linea corretta via da seguire per il suo futuro Vi raccomando non perdete i prossimi video in cui affronteremo altre tematiche relative alla storia Ciao ci vediamo al prossimo video Grazie Grazie Grazie